L'assessore Venturi ha avuto una reazione un po' scomposta alla nostra interrogazione sui fondi stanziati per quanto riguarda la campagna di informazione sui vaccini. Infatti addirittura è arrivato a minacciare di denunciarmi per le affermazioni fatte in assemblea, oltretutto affermazioni che in realtà io non ho mai detto perché lui parla di bando truccato. Noi non abbiamo parlato di bando truccato, semplicemente ci poniamo dei dubbi sul bando per una borsa di studio di circa 9.000 euro, la cui beneficiaria risulta essere Alice Pignatti che è una persona che si è esposta anche politicamente in questi giorni, partecipando a Terrazze PD, facendo selfie correnze e dalla quale è partita tutta la campagna a favore dell'obbligo vaccinale. Il bando, noi l'abbiamo letto, l'abbiamo analizzato e richiedeva, guarda caso, una laurea in Dams indirizzo arte, assieme a una comprovata esperienza nella comunicazione nel campo dei vaccini. Ora, c'è in Emilia Romagna la Facoltà di Scienze della Comunicazione, abbiamo divulgatori scientifici, abbiamo agenzie che si occupano di informazione, divulgazione e comunicazione per quanto riguarda l'ambito sanitario. Ci sono specializzazioni che riguardano proprio le comunicazioni di imprese, le comunicazioni nel settore pubblico. Ci chiediamo come una laurea, guarda caso, la stessa laurea che ha la signora Pignatti, unita all'esperienza, potesse ampliare la scelta dei candidati. Infatti si è presentata solo lei per quanto riguarda l'assegnazione e la partecipazione a questo bando, mentre l'assessore Venturi dice che potevano partecipare centinaia di persone. Ci chiediamo quanti laureati in Dams, indirizzo arte e con esperienza sulla comunicazione e sui vaccini ci siano in Emilia Romagna. A questo punto facciamo anche un appello, chiunque abbia questi due parametri assieme ce lo faccia sapere, così eventualmente la prossima volta che esce un bando vi invitiamo a partecipare. Comunque, a parte questi dettagli, noi abbiamo sollevato questi dubbi anche perché in passato la Regione Emilia Romagna, quando ha voluto i bandi, li ha fatti anche in maniera corretta, chiedendo i titoli di studio più adeguati proprio al campo d'azione che è quello della comunicazione. Ci delude per l'ennesima volta il clima di scontro, il clima divisorio che si è creato anche attorno a questo stanziamento. Poteva essere un'occasione per la Regione Emilia Romagna per finalmente iniziare un dialogo con i cittadini. Invece si sono affidati questi soldi ad una persona che è purtroppo al centro anche dello scontro, che è stata anche vittima di insulti e dai quali ovviamente noi prendiamo le distanze e ci distacchiamo, però questo dimostra appunto che è una persona che probabilmente non ha i titoli per parlare in maniera oggettiva e concreta e senza nessuna influenza politica del tema, come invece deve essere giusto che sia. E allo stesso tempo crea ancora più divisione, ancora più scontro all'interno della Regione Emilia Romagna. Noi questo assolutamente non lo vogliamo, non devono esserci dei bandi fatti e scritti in questa maniera che possono far pensare ad un bando cucito addosso ad una precisa persona, ma bisogna allargare il più possibile la possibilità di partecipare a questi bandi per far sì che veramente l'informazione sia finalmente corretta, esaustiva ed indipendente, altrimenti non faremo altro che aumentare la ferita e il clima di diffidenza che c'è tra i cittadini e la politica. Per questo chiediamo che la borsa di studio venga ritirata. Dobbiamo attuare tutte le azioni per far sì che finalmente si ripristini il clima sereno e di dialogo per far sì anche che possa essere aumentata la fiducia nei confronti della pratica vaccinale.